in classe ragazzi buongiorno ciao nonna prendi pure posto allora mentre tu prendi i tuoi quaderni con la penna io prendo la lavagna e vediamo l'argomento di quest'oggi ieri sera cosa hai fatto? ieri sera ho fatto un comic li hai fatti tutti? quasi tutti i comic, si brava l'argomento di oggi è Critical City Upload cos'è Critical City Upload? Critical City Upload è un gioco di interazione urbana che si basa su delle sfide che noi chiamiamo missioni sono in sostanza delle azioni che i giocatori di questo gioco svolgono all'interno della città sul sito internet si possono trovare variate istruzioni da compiere insieme agli amici ok? tutto chiaro? a posto io mi stavo a giocare alle gette due mesi fa e questo gioco mi ha appassionato molto e adesso sono il secondo in classifica voti e l'ottavo nella classifica punti e settimana scorsa abbiamo svolto una missione in stazione centrale a Milano abbiamo allestito un salotto in piazza e diciamo che i passanti pendolari venivano lì nel salotto e si sedevano bevevano il caffè mangiavano i biscottini e quindi è un modo per conoscere le persone esatto è un modo per fare cose con giocatori che giocano a critical city ma è anche un modo per conoscere delle nuove conoscere le nuove persone conoscere le nuove persone e soprattutto fare delle cose all'interno della città cose belle cose meno belle è importante fare cose e fare cose all'interno della città perché in un certo senso noi siamo stufi del grigio del grigio di tutte le città vogliamo dare un po' di colore grazie alla creatività che sta dentro ognuno di noi ok una cosa molto importante che vi stavo dimenticando è il nostro logo il nostro logo è questo qua è il triangolo è il triangolo è il nostro macchio il nostro singolo è il triangolo 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 ci siamo detto tutto è tutto giallo e ti piace già il gioco? si si è un bel gioco ma quindi posso interrogarti nonna? si ok vediamo subito che cos'è Critical City Upload? che cos'è? è una critica giusto è la critica che uno fa si nelle persone insomma sono cose che alza pure la voce sono critiche che si fanno nelle persone che non vanno bene ok perfetto e che cos'è che si fa con queste critiche? si parla male ok male delle persone sono critiche si parla sempre male delle persone certo e e quindi che cosa si fa all'interno delle della città queste critiche dov'è che dovrebbero starci queste critiche però la città è fatta così i paesi specialmente i paesi si ci sono tante delle critiche ma quindi anche nei paesi ci sono le critiche ma anche nei paesi paesi piccoli ok non solo nelle città anche nei paesi perfetto è proprio per questo che esiste Critical City Upload si per trasformare queste critiche in un qualcos'altro di diverso diverso cosa di bello cosa di diverso di colorato possiamo dire si perfetto tutto questo attraverso un gioco un gioco oh e un'ultima domanda prima di lasciarci se no sto tutta la serata qui a farti domande qual è il simbolo di upload il simbolo di upload il marchio il marchio qual è qual è il marchio di upload prima l'abbiamo detto abbiamo detto che è anche colorato un marchio colorato un marchio si si una cosa fatto si un simbolo fatto a quadra ad angolo fatta ad angolo ci siamo quasi questo qui è un simbolo fatto ad angolo ad angolo quindi quindi se è un simbolo composto da più di un angolo è un tri è un tri è un triangolo è un triangolo perfetto che può essere un po' di tutti i colori di tutti i colori verde giallo giallo rosso poi tutti i colori indriano perfetto nonna mi viene da dire che tu sei quasi pronta per iniziare a giocare ad upload sì perfetto quindi ti farò la fatidica domanda da oggi vuoi essere la cittadina più grande di upload? sì grazie 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 grazie